Avete visto alcune immagini che riproducono dei documenti che possiamo chiamare storici senza tema di smentita. Si dice che un fatto diventa storico dopo il decorso di 50 anni. Ebbene, i documenti che avete visto riprodotti e ripresi risalgono a oltre 70 anni, a dietro. Risalgono quindi agli anni dell'immediato dopoguerra, dal 1947 al 1948, 49, 50 e 51. Si tratta dei quaderni che contengono le registrazioni meteorologiche che la mia passione per lo studio e l'osservazione del tempo mi aveva portato a condurre e a fare puntualmente tutti i giorni e a differenti ore del giorno per tanti anni. Diciamo gli anni nei quali a scuola frequentavo il ginnasio o liceo. L'osservazione del tempo, delle nubi, e questo lo dico per tutti coloro che mi ascoltano, è una cosa estremamente gratificante ed interessante. Oltre ad essere utile, ha dei risvolti di utilità, perché ci serve anche per la nostra vita quotidiana tante volte. A non metterci in cammino, a non metterci in viaggio se non abbiamo proprio l'assoluta necessità in vista di un periodo di maltempo o di fenomeni, diciamo, rilevanti dell'atmosfera. Oltre ad essere una cosa utile, è anche una cosa estremamente piacevole e che ci accompagna. Guardate, tutti i giorni della nostra esistenza, tutte le mattine, abbiamo un cielo diverso da vedere e da osservare. Ed è una cosa veramente che aiuta a vivere bene le nostre giornate. E' un'esistenza, tutte le mattine, abbiamo un'esistenza, tutte le mattine, abbiamo un'esistenza. Grazie a tutti.